Spesso sentiamo parlare di criteri ISG o investimenti ISG, ma che cosa sono? Gli investimenti ISG stanno attirando sempre di più l'interesse degli investitori in quanto sono considerati a basso impatto ambientale, sostenibili dal punto di vista energetico e dunque in grado di portare ad una serie di benefici nella gestione etica di un'impresa. In questo video cercherò di spiegare alcuni concetti di base e vedremo che questo termine si può applicare a vari asset finanziari, dalle azioni ai fondi di investimento fino alle criptovalute addirittura. Ti presenterò alcune delle migliori blockchain green che consumano poco in termini di energia e che quindi stanno attirando sempre di più l'interesse di tanti investitori. Mettetevi comodi e partiamo! Ciao a tutti e bentornati sul canale di Webeconomia.it. Oggi parliamo di criteri ISG. ISG è infatti un acronimo che sta per Environmental, Social and Governance. In pratica si fa riferimento a una serie di criteri applicabili sia alle imprese che a interi settori della finanza che devono far coesistere insieme questi tre elementi. Tra poco ti spiego nel dettaglio che cosa vuol dire. Anche nel settore delle criptovalute abbiamo assistito negli ultimi anni e negli ultimi mesi, soprattutto in Europa, al dibattito sulla sostenibilità di alcune blockchain ai loro consumi in termini energetici, soprattutto legati ai meccanismi di consenso. Da un punto di vista delle criptovalute è possibile in futuro che sia gli investitori che gli enti regolatori vadano a privilegiare quelle blockchain cosiddette carbon neutral in grado di rispettare i requisiti e i criteri ISG. Ma che cosa sono le blockchain carbon neutral? Prima di spiegartelo non dimenticare di iscriverti al canale e mettere un bel mi piace per rimanere aggiornato con tutti questi contenuti. Le blockchain carbon neutral sono delle reti efficienti dal punto di vista energetico in grado di raggiungere l'obiettivo della neutralità riducendo le emissioni o attraverso la compensazione con l'acquisto di crediti, i cosiddetti carbon credits, per ridurre ovviamente l'emissione di CO2 del network. Per fare un esempio brutale, Bitcoin ad esempio con la sua proof of work consuma tantissimo in termini di energia rispetto a altre blockchain che supportano invece i meccanismi di consenso basati sul proof of stake. Qual è meglio di due? Non è importante capirlo ora. Voglio sottolineare però il fatto che alcune criptovalute blockchain potrebbero essere preferite a quelle non ESG o addirittura subire dei ban. Ma quali sono questi progetti cripto che rispettano questi criteri ESG o almeno dichiarano di supportarli? Lo vediamo tra poco. Prima però qualche definizione. Abbiamo visto i tre elementi che compongono l'acronimo ESG, quindi la E che sta per environmental, cioè l'attenzione per l'ambiente e quindi la valutazione dei rischi legati alle emissioni di CO2, il rispetto delle normative energetiche e le politiche green che tendono nella direzione dell'efficienza energetica. La S di social, quindi l'aspetto sociale, quindi il rispetto dei diritti umani, territorio e comunità, il rispetto delle condizioni di sicurezza e degli standard lavorativi. La G di governance, quindi la gestione etica delle imprese, la trasparenza nella gestione del CDA, la gestione delle persone all'interno di un'azienda, così come la comunicazione agli azionisti. Ad esempio un fondo di investimento ESG che volesse rispettare questi criteri dovrebbe essere composto da asset come azioni, obbligazioni e altri asset che fanno riferimento comunque ad aziende che rispettano questi requisiti in termini di ambiente, società e gestione aziendale. Possiamo considerare i criteri ESG come uno strumento di analisi da affiancare ai tradizionali rapporti rischio-rendimento che si utilizzano normalmente nelle valutazioni. Ognuno dei tre aspetti è importante e fa riferimento quindi a dei criteri che ogni azienda dovrebbe rispettare. Andiamo a vedere la prima che la questione legata all'ambiente è molto importante per valutare la sostenibilità di un'azienda. In questa categoria rientrano alcune questioni come l'impatto sul clima, l'uso di energie green per la sostenibilità, la conservazione delle risorse. Una valutazione di criteri ESG per un'azienda può consentire di valutare come questa affronta i problemi legati ai rischi ambientali e le soluzioni che mette in campo per risolverli. Queste possono includere ad esempio le emissioni di gas serra, le impronte di carbonio, la gestione dei rifiuti e persino la conformità alle normative ambientali. Vengono valutate inoltre le tecnologie adottate in fase di sviluppo e i prodotti utilizzati per rendere più sostenibile l'attività. La componente S sta per social e quindi riguarda tutte le questioni che riguardano l'impatto sulla società, incluse le questioni che interessano gli utenti finali, i dipendenti e persino i fornitori di un'azienda. Con questi criteri viene valutato ad esempio qual è il trattamento riservato ai dipendenti, gli strumenti di formazione messi in atto per la loro crescita, oltre alle normative varie di sicurezza. Grande attenzione poi alle questioni legate ai servizi offerti ai clienti, alle politiche di tutela dei consumatori, oltre alle questioni di giustizia sociale. In questa categoria cosa si fa? Si controlla essenzialmente che l'azienda metta in condizione i propri dipendenti di lavorare in un ambiente sicuro, senza approfittare della propria forza lavoro, in modo non etico o peggio dei suoi clienti. È evidente che gli investimenti ESG tendono a concentrarsi su aziende che promuovono temi etici e sociali con la massima attenzione anche alle discriminazioni sessuali e di razza. L'ultima parte riguarda la gestione dell'impresso, cioè la governance, ed è dedicata al controllo di standard qualitativi sulla gestione dell'azienda. Questi includono una gestione contabile accurata e trasparente che informi gli azionisti, oltre la diversità nel scegliere ad esempio lo staff, i dirigenti e gli amministratori. Ad esempio gli investitori potrebbero richiedere che non ci siano conflitti di interesse nella scelta del consiglio di amministrazione, la separazione netta tra i ruoli in modo da garantire l'indipendenza, assicurazioni poi sul fatto che non ci siano coinvolgimenti politici e quindi trasparenza massima nelle comunicazioni. Ma come si fa a valutare se un investimento è ESG compliant? Chi è che si occupa quindi di valutare le aziende e gli asset? In generale per fare investimenti ESG bisognerebbe puntare ad aziende in grado di ottenere risultati a lungo termine attraverso una gestione oculata del patrimonio aziendale con un gruppo dirigente che opera in maniera trasparente. Generalmente le aziende vengono valutate con un punteggio o rating, sicuramente ne avrete sentito parlare, che tiene conto dei parametri finanziari come il bilancio, gli utili e tutte le altre informazioni diciamo di natura economica. A queste ultimamente viene affiancata sempre più spesso una valutazione aggiuntiva che tiene conto della sostenibilità di un'azienda nel lungo periodo. Per questo motivo sono nati dei punteggi o rating ESG o di sostenibilità che esprimono con un giudizio qual è la valutazione di un'azienda o di un fondo in base a criteri legati ambiente, social e governance. Si tratta quindi di un punteggio che si affianca al rating tradizionale e non lo sostituisce in modo da aggiungere altre informazioni utili per chi vuole investire oltre a quelle tradizionali. Esistono ad esempio dei punteggi di rischio ESG elaborati da aziende come l'indicatore ad esempio di MSCI cioè Morgan Stanley Capital International ESG Rating che utilizzano dei criteri per identificare ad esempio il leader di settore o chi sta innovando. In base a questi parametri e a potenziali rischi come questi ad esempio vengono gestiti ci sono dei punteggi che vedete qui che variano dal leader ad esempio il rating AAA fino ai medi BB fino ai ritardatari cioè con le categorie B e CCC. A seconda del settore gli strumenti di trasparenza messi a disposizione da MSCI sono in grado di valutare intere industrie o settori identificando dei rischi ESG. Sono valutati ad esempio i fondi comuni, i titoli azionari, gli ETF e persino intere nazioni. Questa società ad esempio è nota già per l'elaborazione di altri importanti indici come ad esempio l'MCI World un indice di mercato costituito dai principali titoli che riguardano i paesi sviluppati. Ovviamente si tratta di punteggi elaborati da aziende ce ne sono tantissimi altri ad esempio ci sono provider che forniscono valutazioni ESG come Bloomberg ESG Disclosure Scores oppure ISS o S&P Global ESG Score insomma ce ne sono tantissimi. Per le criptovalute poiché si tratta di un settore giovane non c'è ancora un criterio oggettivo con cui valutare i progetti cripto. Ma come si possono allora utilizzare i punteggi ESG nelle decisioni di investimento? Gli investimenti che seguono questi criteri ormai non si possono più ignorare. In generale è possibile utilizzare una strategia basata su ESG facendo attenzione ad alcuni aspetti. Innanzitutto i rating ESG possono fornire delle informazioni aggiuntive quindi in più rispetto a quelle finanziarie tradizionali. È possibile poi filtrare titoli azionari in base ai punteggi ESG includendo quelli con un punteggio alto e escludendo ad esempio quelli con punteggi più bassi. Molte piattaforme o broker già consentono di fare questa cosa. I rating ESG sono poi un indicatore da monitorare nel tempo. variazioni significative nel punteggio potrebbero offrire dei segnali per capire che cosa sta accadendo in un settore o a quella determinata azienda. Gli investitori iniziano a prediligere quei prodotti e servizi delle aziende che si impegnano nel produrre sì ma con rispetto e tutela dell'ambiente. È un processo ormai secondo me inarrestabile che sta modificando il flusso di capitali che vanno sempre più verso aziende sostenibili. Una strategia possibile ad esempio molto semplice potrebbe consistere nella creazione di un portafoglio composto da azioni e fondi con rating di punteggi alti come ad esempio AA oppure AAA. Questi criteri però fate attenzione sono valutazioni fatte da aziende private e quindi non possono essere l'unico criterio per decidere su cosa investire. Sarebbe preferibile ad esempio diversificare anche per settore oltre che per strumento finanziario includendo asset che fanno riferimento ad aree geografiche diverse, settori diversi e via dicendo. Cerchiamo ora di capire se possiamo applicare qualcuno di questi concetti al settore cripto. Negli ultimi mesi abbiamo assistito di fatto a un fortito dibattito anche in Europa sulla sostenibilità delle chain e i loro meccanismi di consenso. Da un punto di vista delle criptovalute è possibile che in futuro sia gli investitori che gli enti regolatori tendano a scegliere quelle blockchain cosiddette carbon neutral, cioè in grado di rispettare questi requisiti ESG. Il concetto di carbon neutrality punta a ridurre l'impatto negativo sull'ambiente per ottenere un risultato netto di zero emissioni CO2, cioè di anidride carbonica. Questo può essere ottenuto in vari modi, ad esempio riducendo il consumo energetico, migliorando l'efficienza nella produzione di energia, oppure investendo su tecnologie a basse emissioni, investendo su fonti di energia rinnovabili, diminuendo il consumo dei combustibili fossili. Le blockchain carbon neutral sono dunque delle reti efficienti dal punto di vista energetico in grado di ottenere l'obiettivo di neutralità attraverso riduzione delle emissioni o attraverso l'acquisto di crediti, i cosiddetti carbon credits, in grado di compensare l'emissione di CO2 del network. Cerchiamo di spiegare in parole semplici questo concetto. Il meccanismo dei carbon credits è stato introdotto dal programma Cap and Trade relativo alla riduzione degli effetti climatici. Un credito di carbonio o carbon credit rappresenta il permesso di emettere un certo quantitativo di CO2, cioè di anidride carbonica, ad esempio scegliamo un numero una tonnellata. Le aziende che applicano una politica energetica sostenibile possono così vendere questi crediti ad altre aziende private. In questo contesto le aziende sono così incentivate a ridurre i loro consumi. Possono infatti come prima cosa guadagnare vendendo le quote in eccesso. In secondo luogo dovrebbero spendere soldi per acquistare crediti extra nel caso in cui le loro emissioni superassero la soglia consentita. È evidente che molte istituzioni finanziarie e fondi di investimento saranno sempre più concentrati nell'investire e promuovere tecnologie fornite da blockchain più sostenibili dal punto di vista energetico. Qui vedete alcuni dei meccanismi di consenso più utilizzati, la proof of work ad esempio che utilizza Bitcoin, oppure la proof of stake utilizzata da Ethereum e tante altre chain proof of stake, o l'Hashgraph che è utilizzato soltanto da una blockchain che poi non è neanche una blockchain che è header hashgraph. Come sapete Bitcoin è al centro dell'attenzione soprattutto per i suoi meccanismi di proof of work che consumano tantissimo in termini di energia. Quindi coin e token che rispettano queste norme potrebbero essere preferiti a quelli non ESG a addirittura subire ban con una influenza diretta sul prezzo e sullo sviluppo futuro del progetto. Molti dicono che non è possibile censurare alcune chain, ma non ne sarei così sicuro. Andiamo allora a vedere quali sono i principali progetti cripto su cui investire in ottica ESG. Non è una classifica e non sono assolutamente consigli di investimento. Mi limito semplicemente ad analizzare quelli che sono i progetti più attivi e più attenti a questi criteri. Molte criptovalute emergenti rispettano i requisiti di neutralità rispetto al carbonio, alcune di esse sono partite già con progetti efficienti, altre invece stanno operando per compensare le loro emissioni tramite crediti. Naturalmente per progetti con poca capitalizzazione o poco utilizzate è facile ottenere questo obiettivo in quanto comportano un numero di transazioni irrisorio e molto inferiore a reti come ad esempio quella di Bitcoin che processa migliaia di transazioni al giorno. Bitcoin come altre blockchain utilizza la proof of work come algoritmo di consenso e dunque consuma molta energia, pertanto non verrà inclusa nella lista di cui parlerò tra poco. Alla fine di questo video però rimani sintonizzato perché farò un ceno sulla sostenibilità anche di Bitcoin. Altre blockchain basate invece sulla proof of stake invece consumano meno energia e sono pertanto quelle che soddisfano maggiormente questi criteri. Il primo progetto che vediamo è Solana che si presenta come la blockchain più veloce al mondo e con ogni sistema in crescita molto rapida, con oltre 400 progetti DeFi, NFT, Web3 e tantissimi altri. Solana è stata ideata per migliorare la scalabilità per consentire agli sviluppatori di creare applicazioni decentralizzate, le cosiddette dApps dalle alte prestazioni. Solana utilizza un sistema di timestamping che va oltre la proof of work e la proof of stake che si chiama proof of history, che consente transazioni che vengono ordinate automaticamente. Il token del network si chiama Sol. Nel 2021 la Solana Foundation ha annunciato di aver raggiunto la neutralità rispetto al carbonio, finanzierà infatti dei progetti innovativi in modo da compensare le emissioni della rete che sono comunque basse e permettono un futuro sostenibile per le applicazioni Web3. Secondo il team una transazione su Solana consuma meno della quantità di energia necessaria per completare due ricerche su Google, quindi un consumo estremamente ridotto. Qui vedete i dettagli su come cercano di neutralizzare le emissioni e ci sono anche dei report periodici che potete scaricare che riportano informazioni trasparenti per certificare l'impatto del network sull'ambiente. Vedete qui che ci sono i consumi in Joule. Per maggiori informazioni puoi consultare questo video che ti lascio qui sopra in descrizione sul funzionamento di Solana. Un altro progetto interessante è quello di Algorand, una blockchain innovativa che utilizza il consenso proof of stake. È una rete scalabile ed efficiente che supporta lo sviluppo di smart contracts. La mainnet di Algorand è partita nell'ontanato 2019 ed è stata in grado di gestire milioni di transazioni al giorno. Dietro il progetto c'è Silvio Micali, docente di informatica al Massachusetts Institute of Technology, il quale aveva già ricevuto il premio Turing nel 2012, molto prestigioso proprio sui temi riguardanti la criptografia. La velocità delle transazioni sulla piattaforma Algorand e le sue basse commissioni ne stanno decretando una forte adozione. La convinzione di molti analisti è che sia una chain su cui puntare per il futuro. Il token del network, come sapete, si chiama Algorand. Come vedete qui, appena entriamo nel sito di Algorand, il messaggio è molto chiaro. Dichiarano che si tratta della blockchain più potente e sostenibile del mondo. In questa pagina, come vedete qui a questo URL, c'è un'intera sezione del sito dedicata alle informazioni sull'ambiente. Algorand ha raggiunto lo status di chain carbon neutral grazie alla collaborazione con alcune società come Global Carbon Holding, Climate Trade, Planet Watch e le trovate qui sotto con i relativi report. Ad esempio, per quanto riguarda Climate Trade, abbiamo un'azienda che aiuta le altre a diventare sostenibili attraverso compensazioni di emissioni CO2 e progetti innovativi legati all'ambiente e ai cambiamenti climatici. Vedete in questa pagina alcune metriche relative alle statistiche di Algorand, che ha un costo di transazione estremamente basso, pari a 0,002 dollari, che è veramente infinitesimo. Tra l'altro, se siete interessati ad Algorand, vi ricordo che tra poco riaprirà la fase in cui ci potrà candidare come Governor e guadagnare quindi ricompense dallo staking per chi ha in portafoglio Algo. Sul nostro canale YouTube, per maggiori informazioni, puoi consultare questo video che ti lascio qui sopra in descrizione sul funzionamento di Algorand, in cui ho parlato anche dello staking. Un'altra chain sicuramente green è quella di Near. Near Protocol è uno dei progetti interessanti che offre una piattaforma molto efficiente dal punto di vista delle transazioni al secondo. Tutto questo è reso possibile grazie alla proof of stake e dalle soluzioni di sharding che sono state impiegate. Near Protocol consente lo sviluppo di applicazioni decentralizzate, permette di gestire NFT, app, web, trade e gaming in modo semplice e veloce. Da un punto di vista tecnico, Near Protocol è una piattaforma di sviluppo che gestisce i smart contract shard, che possono essere sviluppati con i classici linguaggi di programmazione molto conosciuti nel mondo smart contract. Come vedete qui ci sono tantissimi progetti attivi ed il token di Near Protocol, come sapete, si chiama Near. Come vedete in questo articolo nel 2021, Near Protocol ha ottenuto la certificazione carbon neutra dalla società South Pole, un'azienda che si occupa di progetti a basse emissioni di carbonio. Questo è stato reso possibile grazie al fatto che Near ha compensato le emissioni del suo protocollo investendo in progetti innovativi per neutralizzare anche i consumi diretti, come l'elettricità, l'hardware e i servizi di cloud. South Pole ha valutato l'impronta di carbonio nel protocollo considerando addirittura le emissioni della Near Foundation, dei validatori, nella fase di utilizzo del protocollo. Come leggiamo in questo report, che poi vi metto in descrizione, sono stati calcolati tanti parametri, dall'utilizzo dell'elettricità, al riscaldamento e al raffreddamento, ai beni acquistati come hardware e servizi di cloud, fino ad arrivare ai rifiuti dei prodotti. Anche in questo caso potete vedere dei dati sull'efficienza di questo protocollo, abbiamo più di 400.000 transazioni processate ogni giorno, più di 25 milioni di account e un costo per transazione inferiore a 001 dollari, veramente molto basso. Naturalmente per chi volesse approfondire tutto il funzionamento di Near Protocol, anche i dettagli tecnici, puoi consultare questo video che vedi qui e che ti lascio sopra in descrizione. Tra le altre cose uscirà proprio in questi giorni un video che sto realizzando sui wallet dell'ecosistema di Near. Attivate quindi tutte le notifiche per rimanere aggiornati. Un altro progetto di cui voglio parlare, anche se non è un'effettiva blockchain, è ed era Ashgraph, un network open source che utilizza la tecnologia DLT che sta per Distributed Ledger Technology. È una struttura che è diversa dalle blockchain tradizionali, è infatti una rete decentralizzata che sfrutta algoritmi di sicurezza e validazione più efficienti rispetto a quello che utilizzano le tradizionali blockchain. Una delle critiche maggiori che fanno a questo network è quello di non essere effettivamente decentralizzato. Ed era infatti utilizza database distribuiti su più nodi a cui è possibile accedere in modo decentralizzato da parte di più partecipanti che mantengono comunque aggiornato una copia sincronizzata dei dati. Ed era Ashgraph è in grado di supportare fino a 100.000 transazioni al secondo e quindi in grado teoricamente di competere con gli sistemi di pagamento tradizionali come ad esempio i circuiti delle carte di pagamento. È una rete molto promettente che viene utilizzata anche per micropagamenti in quanto ha delle commissioni di transazione estremamente basse. Qui sotto vedete l'aspetto più interessante, il fatto di essere supportato da molti istituzionali. A bordo infatti troviamo nomi importanti come Google, Dell, EDF, IBM, Ubisoft, Deutsche Telekom e altre istituzioni che potete trovare sul sito. Il token del network come sapete si chiama HBAR. È una blockchain carbon negative basata su un proprio meccanismo di consenso interno che si chiama Ashgraph che le consente di consumare pochissimo come larghezza di banda. Ed era fa della sostenibilità ambientale il proprio cavallo di battaglia. È infatti un progetto che mira a diventare carbon negative attraverso l'acquisto di crediti ogni trimestre. Sul sito come vedete qui in questa tabella è possibile vedere i consumi in Watt della rete. Vedete qui in particolare il confronto con Bitcoin e Ethereum sia in termini di costo per transazione che di Watt consumati. Sul sito poi troviamo un'intera sezione dedicata ai criteri SG. Ogni trimestre infatti vengono fatte delle valutazioni sulle emissioni con dei report per capire se acquistare crediti in compensazione oppure no. I rapporti sono generati in genere da TerraPass. Sul sito potete trovare comunque tutta la documentazione e tutti i riferimenti con i report per ogni trimestre per vedere quali sono effettivamente i consumi. Qui vedete infatti una tabella riepilogativa con alcuni dati per quanto riguarda la sostenibilità di questo network che non è una blockchain ma è un progetto estremamente interessante anche perché è supportato come abbiamo visto da colossi della tecnologia. Quindi conviene secondo me seguirlo. Per maggiori informazioni puoi consultare questo video che vedi qui sul nostro canale che ti lascio qui sopra e in descrizione che spiega tutto il funzionamento di Eder Ashgraph. Un altro progetto di cui voglio parlare è sicuramente Polygon, uno dei layer 2 più apprezzati su Ethereum che consente di effettuare transazioni con costi e fees basse con grande velocità. Ad oggi è la principale soluzione di scaling per Ethereum. Polygon è in grado di supportare un numero elevatissimo di transazioni assicurando sicurezza e decentralizzazione grazie al layer 1 sottostante di Ethereum. Polygon fornisce una tecnologia scalabile per elaborare transazioni al di fuori della blockchain principale per poi utilizzare la sicurezza sottostante di Ethereum e le commissioni ovviamente sono estremamente basse. Ultimamente si parla molto di questo progetto perché è stata rilasciata la sua versione di ZK Rollup cioè conoscenza zero compatibile con l'Ethereum virtual machine. La soluzione si chiama Polygon ZK EVM e la vedete qui sul sito. Qui sotto vedete l'architettura di base estremamente efficace con le transazioni che vengono impacchettate in un rollup e inviate al layer 1 di Ethereum. Per i dettagli tecnici sul funzionamento degli ZK Rollups vi rimanda ad un video sul nostro canale che ti lascio qui sopra in descrizione. Ovviamente il token lo conoscete di Polygon si chiama Matic. Nel suo green manifesto inoltre Polygon ha annunciato che raggiungerà lo stato di carbon negative. Investirà infatti oltre 20 milioni di dollari in iniziative di finanziamento di progetti in grado di combattere i cambiamenti climatici. Al momento della scrittura Polygon Network ha acquisito migliaia di crediti di carbonio per essere comunque carbon neutral. Quello che stanno facendo è cercare di impegnarsi per eliminare tutto il debito di carbone della rete, cioè significa che ogni transazione, ogni NFT coniato sulla rete oppure ogni transazione fatta sulla DeFi verrà contabilizzata e il suo impatto ambientale verrà compensato. Polygon lavorerà quindi addirittura per diventare la prima blockchain carbon positive. È uno dei progetti che ha stretto maggiori partnership e sta sviluppando tantissima tecnologia, dunque vale secondo me la pena di seguirlo. Per maggiori informazioni come vedete qui potete consultare questo video che ti lascio qui sopra in descrizione sul funzionamento di Polygon. Ed un ultimo cenno dobbiamo farlo su Bitcoin. In un report fatto sul sito di Messari che potete scaricare gratuitamente ci sono delle riflessioni interessanti sui trend del 2023 anche in particolare sul mining di Bitcoin. Come vedete in questo report il mining di Bitcoin non è SG compliant, ripeto il mining di Bitcoin perché è il processo di estrazione di Bitcoin a consumare energia, proprio così come è stato concepito, non è la coin. All'inizio del 2022 come vedete in questo grafico circa il 39% del mining di Bitcoin proveniva da fonti rinnovabili, il resto viene purtroppo da fonti come carbone e gas. Bisogna però considerare che la quantità di energia non aumenta se più persone iniziano ad usarlo perché questa viene calcolata in base alla capacità del mercato. Nei prossimi anni quindi i consumi di energia di Bitcoin saranno legati esclusivamente al costo per estrarre un singolo Bitcoin. E naturalmente tutto dipende dal prezzo, se non conviene estrarlo perché il prezzo è basso, ovviamente non aumenterà l'energia per farlo. Come vedete in quest'altro grafico sulla destra Bitcoin non consuma più energia di tanti altri settori come ad esempio quello bancario o militare o dell'estrazione dell'oro. Molta energia nel settore petrolifero del gas viene quindi sprecata e bruciata, quindi se si riuscisse a riutilizzare in parte questa energia per fare magari mining e estrarre Bitcoin il suo consumo calerebbe in modo drastico. Quindi è vero che molti soprattutto in Europa si stanno scagliando contro il mining ma non è detto che Bitcoin non possa diventare più green soprattutto se il modus operandi attuale è quello di compensare le emissioni. E quindi questo ci dà lo spunto per arrivare ad alcune critiche che possiamo rivolgere ai criteri ISG. Fino a questo momento abbiamo parlato solo di cose positive per gli asset ISG. Si stima che entro il 2025 potrebbero registrare delle crescite importanti, quindi c'è tanta voglia di investimenti sostenibili in quanto molti investitori hanno anche a cuore la salute delle persone e del pianeta. Cerchiamo di capire allora quali sono i vantaggi ma anche gli svantaggi di questo tipo di investimenti e soprattutto una critica ai criteri che non devono essere considerati come la verità assoluta. Tra i vantaggi ricordiamo che gli investimenti ISG consentono di puntare su società che puntano a proteggere l'ambiente e dunque proiettate nel futuro. Quindi abbiamo il rispetto delle tematiche di sostenibilità ambientale, una diversificazione più mirata del proprio portafoglio che è supportata come vi ricordate da valutazioni aggiuntive rispetto a quello economico, finanziario e tradizionali. Il raggiungimento di rendimenti paragonabili a quelli tradizionali se non superiori in alcuni casi. E passiamo quindi agli svantaggi, ovviamente quando parliamo di rating ISG stiamo parlando di valutazioni vi ricordo fatte da società esterne, dunque dobbiamo fidarci delle analisi fatte e prenderle per buone. Quindi quale critica possiamo fare? Il fatto di avere dei criteri di valutazione che possono cambiare nel tempo, una società di rating ad esempio potrebbe dall'oggi al domani cambiare i propri criteri di valutazione ed è già successo in passato e quindi una società potrebbe passare magicamente a diventare ISG compliant senza fare nulla. Non esistono poi delle metriche chiare, cioè non c'è un ente che stabilisce quali sono i criteri da prendere in considerazione. Potremmo avere ad esempio società petrolifere che bruciano combustibili fossili e contemporaneamente investono in energie rinnovabili. Oppure un'azienda potrebbe essere composta da molte donne, avere una gestione aziendale perfetta ma inquinare, quindi bisogna valutare quelli che sono gli aspetti prioritari prima di investire. Non ci sono poi degli standard ISG. Negli ultimi anni sono nate moltissime società di rating, ognuna con i propri report e sistemi di valutazione proprietario. La Security Exchange Commission, cioè la SEC, ad esempio, non ha ancora stabilito delle misure oggettive che le società quotate dovrebbero comunicare per essere aderenti alle normative. Quindi non si può fare altro che fidarsi del proprio gestore di fondi in attesa di una regolamentazione. I punteggi sono poi calcolati in base al settore. Molte valutazioni sono fatte da società di rating sulla base dei dati di altre aziende di settore e non di standard universali. Molto spesso i dati analizzati sono messi a disposizione dalle stesse aziende che dovrebbero essere valutate. Le opportunità di investimento sono, se ci pensate, limitate. Se si vuole investire solo in asset ISG ci potrebbero essere ancora poche scelte. Costruire quindi un portafoglio bilanciato fatto solo di investimenti ISG potrebbe risultare complesso. E poi, molto più importante, le misurazioni non sono facili da calcolare. Misurare, ad esempio, l'impatto di una società a livello sociale nel mondo è complesso. E quindi questi criteri sono importanti ma non devono essere presi come la verità assoluta. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video e abbiamo visto che cosa sono i criteri ISG e come si stanno muovendo le varie blockchain. I criteri ISG stanno diventando sempre più importanti e probabilmente diventeranno un driver di investimento sia all'interno dei fondi che per quanto riguarda i cryptoasset. Come abbiamo visto ormai questi criteri non riguardano solo le aziende ma anche i fondi di investimento e addirittura le criptovalute. Probabilmente assisteremo ad uno scenario in cui gli investitori privilegieranno sempre di più le blockchain che sono carbon neutral e green. Si tratta, come abbiamo visto, di criteri importanti che bene conoscere ma non devono essere considerati assolutamente come la verità assoluta o come un dogma. Fammi sapere qui sotto nei commenti ovviamente cosa ne pensi. Naturalmente ti invito a iscriverti al canale per supportarci, a mettere un bel mi piace e attivare le notifiche come sempre per rimanere aggiornato con questi contenuti e con i prossimi. Io ti ringrazio per l'attenzione, iscriviti al canale mi raccomando, ti saluto e ci vediamo al prossimo video.